Buonasera, mi chiamo Caterina Lazzarini, sono la direttrice editoriana della Casa Editrice La Scuola e vi voglio presentare il nostro progetto per il primo ciclo che si intitola Siamo tutti campioni. Il titolo riassume l'idea di fondo del progetto. È un progetto in cui si adotta come sfondo integratore l'idea dello sport, sport individuale ma soprattutto sport di squadra, non tanto come sport ma come ambito che più di altri educa alla cittadinanza attiva perché è lo strumento migliore per imparare le regole, imparare il rispetto dell'altro, cooperare tutti insieme per un risultato e quindi ci sembrava particolarmente adatto anche proprio a partire da una prima classe in cui la necessità è di cominciare a formare una piccola comunità, un gruppo classe che starà insieme per lo spazio di cinque anni. Proprio a questo proposito cioè formare il gruppo classe cominciamo anche noi con un quaderno di accoglienza, un quaderno di accoglienza destinato alle attività così ludiche di disegno, di contorno, piccoli giochi come il labirinto che vedete qui, destinati ai primi giorni di scuola. Si passa poi al metodo, è un metodo molto tradizionale, questo corso è stato pensato per rivolgersi a tutte le realtà delle più diverse situazioni di classi che possiamo immaginare nella nostra lunga e larga Italia, più lunga che larga. Quindi non abbiamo cercato di spingere un metodo fortemente innovativo, al contrario il nostro vuole essere un corso rassicurante. Chi lo ha già usato ci ha confermato che dà ottimi risultati nelle classi più eterogenee che hanno bambini di provenienze anche molto diverse e di questo siamo felici. Dunque il libro del metodo è essenzialmente basato su un metodo fonosillabico, l'impatto grafico è molto chiaro e molto rassicurante sia per i bambini che per le maestre. La grafica è una grafica che fa un uso del colore e dei disegni che possa colpire la fantasia dei bambini in questa fase delicata del loro passaggio dal mondo dell'infanzia al mondo un pochino per volta più strutturato. Ogni gruppo di lettere è introdotto da uno sfondo integratore che è costituito da una storia di sport, una storia originale costruita dalle autrici di questo corso e che i bambini possono ascoltare, infatti nella doppia pagina iniziale c'è scritto espressamente ascolta l'insegnante perché qui hanno un piccolo riassunto ma l'insegnante possiede la registrazione di tutta la storia e quindi la può fare ascoltare. Dopo la doppia pagina tutte le attività consuete di riconoscimento e apprendimento della lettoscrittura sono impostate su piccolissime frasi all'inizio poi via via un pochino più lunghe impostate sulla storia che fa da sfondo integratore. naturalmente abbiamo usato tutte le strategie che tutti sono soliti usare per l'apprendimento quindi dalla lettera bersaglio vedete l'app che torna nella frase che è sulla maglietta della bambina le freccine dentro la lettera A che indicano il verso che deve seguire la matita quando si comincia la scrittura e così via. Il contesto ci sembra come dicevamo all'inizio studiato per essere particolarmente motivante ci sono i personaggi che troviamo anche sulle altre copertine che sono piccoli testimonial che dovrebbero fare da guida per i bambini nell'apprendimento cosa dire che essendo un metodo tradizionale tutta la prima parte è basata sullo stampato maiuscolo però a partire da pagina 142 a pagina 148 ci sono c'è un avviamento anche allo stampato minuscolo in coesistenza qui vi ho fatto vedere la pagina dove coesistono maiuscole e minuscole e a partire invece dalla pagina 150 l'apprendimento degli ultimi gruppi di fonemi è direttamente impostato con la doppia grafia in ogni caso per lasciare libero l'insegnante di utilizzare fin da subito se vuole tutte e quattro le grafie abbiamo studiato un quaderno delle grafie di 96 pagine che contiene sia il pregrafismo sia le quattro grafie stampato maiuscolo minuscolo corsivo maiuscolo minuscolo e pagine espressamente pensate per esercitare il corsivo naturalmente tutto l'apparato del metodo e del quaderno delle grafie è assolutamente in quella carta che noi chiamiamo tecnicamente uso umano che è quella non patinata adatta per la scrittura continuiamo la presentazione della parte linguistica con il libro di letture e riflessione linguistica le letture sono letture in parte a tema sportivo sono tratte sia da classici della narrativa per l'infanzia sia originali contemporanei ma anche pensate apposta per questo corso anche qui troviamo la coesistenza di maiuscolo stampato maiuscolo per la maggior parte del testo e stampato minuscolo da una certa pagina in poi c'è tutta una prima parte di prime letture le prime 21 pagine di prime letture dedicate ai primi passi sempre accompagnate da piccoli esercizi delle competenze che esercitano le competenze quindi non solo quelle che immaginiamo di letto scrittura ma anche competenze che adesso vi racconterò di altro tipo poi per sviluppare le competenze ci sono compiti di realtà tutto quello che vi racconto è indicato anche in copertina e lo vedete qui nelle voci che in copertina sono elencate ci sono esercizi per il CLIL e anche per il coding perché abbiamo pensato di introdurre anche queste due modalità fino dalla prima classe le altre rubriche su cui vi volevo richiamare la vostra attenzione sono le rubriche di cittadinanza sono state scelte alcune letture che potessero facilitare la riflessione sulla cittadinanza per la nostra volontà di contribuire fin dalla prima classe a formare dei cittadini per un futuro migliore non vi ho detto che le varie letture sono raggruppate per ambiti per ambiti quindi che vanno dall'affettività al gioco agli amici tutti gli ambiti tematici più cari all'immaginario dei bambini ma una rubrica a cui teniamo in modo particolare è quella che si chiama cuore batticuore che rappresenta nel suo insieme un vero e proprio percorso di educazione all'affettività perché ormai sappiamo che l'intelligenza emotiva è al centro di ricerche che dimostrano come un corretto uso dell'apprendimento attraverso l'intelligenza emotiva può portare a risultati sicuramente migliori di quello tradizionale del passato che si basava unicamente sull'intelligenza logico-razionale che escludeva una parte così importante della nostra personalità e così delicata negli anni di formazione che noi l'abbiamo inserita molto volentieri quindi letture organizzate per temi come vi dicevo parte dedicata alle prime letture caratteristiche della grafica coerenti con quelle del metodo quindi allegra, vivace, alla portata dei bambini educazione alla cittadinanza educazione all'affettività vari tipi di competenze messe alla prova attraverso soprattutto i compiti di realtà in più, cosa che non ho detto ma c'è l'audio di tutte le letture contenute nelle varie unità questo per facilitare l'inclusione per facilitare anche il ripasso a tutti i bambini la riflessione linguistica come secondo tradizione è contenuta per il primo anno nello stesso volume per gli anni successivi invece per la seconda e per la classe terza le letture e la riflessione linguistica hanno spazio in volumi diversi molto rapidamente le letture della classe seconda e della classe terza seguono la stessa logica delle letture della classe prima in seconda il raggruppamento è ugualmente tematico nella terza classe invece è per tipologie testuali perché la terza classe fa da raccordo per il secondo ciclo quindi già i bambini devono essere abituati a riconoscere le varie tipologie testuali cosa c'è di nuovo rispetto alle letture di prima? la rubrica MioLab le letture facili sono letture ad alta leggibilità presenti in ogni unità proprio per garantire l'inclusione quindi per essere destinate anche a chi avesse difficoltà di lettura MioLab invece è una rubrica anche questa presente in tutte le sezioni in cui sono divise le letture è di tipo laboratoriale come dice il titolo MioLab e sviluppa la competenza per esempio di raccontare e scrivere le varie competenze legate all'espressione al saper esprimere sia nel racconto orale che nella scrittura anche qui cuore batti cuore anche qui clear e prove in valsi quindi abbiamo tutte le caratteristiche che avevamo nelle letture della classe prima in più il MioLab la stessa struttura caratterizza il volume di letture di classe terza che come vi ho detto è diviso per tipologie testuali quindi che so vedete qui la descrizione per esempio molto importante perché sapete che oggi rappresenta anche una competenza in uscita dichiarata nella scuola secondaria di primo grado in cui lo scritto di italiano finale dell'esame di stato richiede la conoscenza la competenza scusate della descrizione oltre che a quella della narrazione quindi per tipologie testuali descrizione, filastroche, poesie, testo narrativo anche qui abbiamo le rubriche MioLab cuore batti cuore abbiamo i compiti di realtà che cosa c'è in più? c'è una prova in valsi e c'è una lettura lasciata per il piacere della lettura una lettura di 20 pagine tratta da una bella narrativa contentoranea guarisci ridù questa lasciata proprio al piacere della lettura l'allenamento all'invalsi si compone di pagine dedicate alla simulazione della prova una prova di tipo A e una prova di tipo B questo per quello che riguarda l'apprendimento della lettoscrittura e la parte linguistica per quello che riguarda invece la matematica anche qui la matematica è una matematica di tipo tradizionale molto rassicurante contiene tutti nel primo anno e insieme alle altre discipline storia e geografia e scienze in particolare la matematica naturalmente impostata senza rinunciare a nessuno dei metodi d'approccio tradizionali proprio per lasciare la massima libertà all'insegnante la massima flessibilità quindi abachi, regoli, dita, tutto le altre discipline le altre discipline diciamo dunque la matematica in classe prima fa parte di tutto il volume complessivo le discipline sono trattate già anche se ovviamente in classe prima si tratta di gettare le basi per quello che sarà il futuro però sono trattate tutte con attenzione particolare alla realtà quindi sia nella matematica attenzione per esempio all'uso della moneta l'euro attenzione ai pesi e alle misure sia anche nelle discipline delle scienze scusate il mondo intorno a me e della tecnologia le stagioni, stagioni sport ogni tanto anche qui c'è il riferimento dove è possibile allo sport ma in misura ridotta rispetto a quello che è il metodo nelle classi successive quindi direi riepilogando le caratteristiche della nostra matematica una matematica tradizionale adatta a tutti d'utile nell'insegnamento quindi ogni insegnante sicuramente ci si può ritrovare una cosa che non vi dicevo però sono presenti esercizi di coding dalla prima alla terza come anche i compiti di realtà e numerosi esercizi di apprendimento cooperativo questo per garantire fino da subito che i bambini imparino a lavorare in squadra e imparano a ragionare secondo la metodologia del coding che non è altro che un apprendimento di un percorso logico per sequenze che li potrà facilitare nell'apprendimento di qualsiasi altra materia le discipline dal primo al terzo anno naturalmente sono trattate con ampiezza crescente così per la classe seconda troviamo un volume a parte in cui i compiti di realtà chiamati i compiti di realtà le prove chiamate prove da campioni i compiti di realtà stanno nella rubrica che si chiama come nella realtà ma l'attenzione al mondo reale è presente vorrei dire dalla prima all'ultima pagina è proprio caratteristica di questo corso troviamo una parte la parte dell'eserciziario in coda al volume con opportuni rimandi alla parte teorica in modo che i bambini siano in grado di esercitarsi seguendo la struttura del libro ecco in classe seconda la matematica comincia a essere importante con il suo eserciziario ha una dimensione di ben 144 pagine anche qui sempre molto chiara la grafica punta alla leggibilità da parte di tutti i bambini fortemente pratica applicativa con attenzione come vi dicevo sempre anche alla realtà per completare questa offerta abbiamo pensato anche a un libro di lapbook per le classi seconda e terza e il lapbook che facciamo costruire i bambini è proprio quello delle tabelline il libro delle tabelline è un modo come un altro voi sapete la valenza didattica che ha il lapbook che facendo costruire un piccolo oggettino personale crea un rapporto di maggiore coinvolgimento del bambino rispetto all'argomento oggetto dell'apbook quindi si costruisce il suo libricino delle tabelline e crediamo che sia un modo per farlo affezionare di più in qualche modo anche alle tabelline stesse allora in terza abbiamo due volumi importanti sia per le discipline che per la matematica la matematica con l'eserciziario comprende 168 pagine quindi rispetto a quello che avete visto c'è una crescita costante anche qui ci sono tutte le stesse rubriche code in CLI compiti di realtà e prova in valsi lo stesso vale per le scienze e per la storia e la geografia anche in queste materie abbiamo trovato lo spazio per inserire una parte espressa sul lessico delle scienze il lessico della geografia e di tutte le materie le parole della storia in modo che i bambini si abituino a formarsi un piccolo glossario tecnico abbiamo pagine dedicate al coding e dedicate al CLI quindi un corso completo chiaro alla portata di tutti che utilizza lo sport non come elemento così di passatempo o di o con attenzione che so alla gara al concetto di gara da superare al contrario come ambiente particolarmente inclusivo e come lo strumento più adatto secondo noi per veicolare una corretta educazione allo stare insieme quello che più di ogni altra cosa dovrebbe essere secondo noi l'obiettivo della scuola grazie della pazienza non vi dicevo anche qui c'è una dotazione come in tutti i nostri corsi c'è una dotazione digitale molto ricca curata che va da video lezioni ad audio audio letture tutto quello che trovate indicato peraltro anche nelle pagine del corso chi in questi giorni così difficili in cui ci stiamo muovendo della didattica a distanza ha avuto modo di frequentare il nostro sito avrà visto già un saggio ben abbondante dei materiali che mettiamo a disposizione di tutti grazie per la pazienza io mi fermo qui se avete curiosità domande o se ci sono cose che nella necessità di contrarre il tempo della presentazione non ho potuto affrontare rivolgetevi a noi con fiducia attraverso gli agenti o anche indipendentemente attraverso la pagina facebook attraverso il nostro sito e noi vi risponderemo grazie ancora e buonasera